e ciao ragazzi e bentornati sul canale rieccoci con superliminal ovvero con l'ottavo e penultimo livello ovvero spazio bianco ci siamo risvegliati non più nella nostra stanza ma sembra con un letto e una sveglia e adesso dobbiamo cercare ok siamo in una zona tra virgolette privata remember call jungles management questo dovrebbe essere il modellino della struttura ok è chiuso allora dobbiamo trovare una via d'uscita chiama jungles aspetta però c'è scritto jungles qua sopra ok proviamo a ingrandirlo wow stiamo mandando in pappa pure il sistema centrale stiamo mandando in pappa ok e di qua usciamo allo stesso punto di prima se allora però aspetta e se io questo lo prendo ok riduci lo metto vicino all'entrata esatto vediamo ok proviamo ad entrare minchia esplode tutto ragazzi io mi sto muovendo ma non vedo nulla non vedo nulla ah ecco che diavolo è una torre beh c'è solo modo per scoprirlo andiamo a vedere ma posso andare di qua sì continuiamo dritti visto che l'uscita pare essere da questa parte anche se c'è un cartello contro la testa mia che dice non è un'uscita ma noi ce ne sbattiamo le palle e andiamo cado giù? sì cado giù beh abbiamo imparato che comunque qui il dolore non esiste aspetta ok vai doctor hello my name is dr glenn pierce and many years ago I had a dream I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to white space ok lo spazio bianco il tipo il paradiso deception o reception sebbiamo la strada coi coni qua rischiamo di perderci quando è un consegno aspetta ok chiuso apparentemente siamo tornati nell'albergo di prima però bianco e con un ronzio come se fra poco esplode tutto cavolo non è un'uscita e questo l'abbiamo capito porta chiusa muro chiuso ricordiamoci che questo gioco fa ampio uso di effetti che non dobbiamo aspetta la luce che sta qui che riflette il comodino che sta leggermente diverso rispetto agli altri è più bianco e quindi bingo cioè bingo ok 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 ecco l'uscita ok siamo sulla passarella di prima stavolta più bianca perfetto vediamo un po' che c'è qui ma sto arrivando o ci sto perché no dai dannazione e se io vado un po' più avanti dove finisco qui ah ok 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 abbiamo recuperato un cubetto ma il problema è ok e salta perfetto quindi il dottore è stato in questo spazio bianco allora andiamo di qui sembrano delle matite giganti che è questo un interruttore però non c'è nient'altro no premiamo vediamo ops ah ok interessante allora questi non li posso toccare vero o no e non lo so andiamo di qua ok ecco qua come diavolo come ci salgo qua sopra a meno che lo devo entrare girati ok perfetto e si sale occhio a non cadere vabbè cade da solo ok 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 e no ragazzi ma non ci casco due volte di fila questo è un loop proviamo a uscire dalle pareti visto che il bianco vedi mi fa uscire e se io agiro l'ostacolo perfetto you're well beyond dreaming now and further out than anyone has ever come back from canora but we hope that you won't get discouraged after all if this is a place of pure perspective isn't it also a place where a different point of view could make anything possible No, io veramente ero qui perché non riuscivo a dormire Però, vabbè, questo è un altro discorso Qui non c'è nient'altro Allora, qua ci sono degli scacchi Però non so al momento a cosa possono servirmi Quindi camminiamo Ok, siamo E se io vado su quello nero? Ok Allora, aspetta Allora, scacco Questo lo metti qua Su quello nero, quello bianco, su quello bianco Cioè, per logica E questo lo metti qua Ok, quindi ma in teoria Ah, perfetto Però se io adesso vado avanti Cado giù Quindi mi devo portare avanti Sempre gli scacchi Allora No, cacchio Allora Allora, mettimi il nero Qui Ok E fai un passo Poi Il bianco Prendi E lo metti Qui E faccio il passo Prendi il nero Ok E mettilo qui Sale sul nero Prendi il bianco Ok, chiaro Semplicissimo Perfetto Perfetto Ancora uno Ok Allora Allora Immagino che io devo andare qui sopra Vediamo di qua Non riesco a passare E se Uso la Questa per salire No, ma Non ce la farei mai Con questa Scusi Perché Sono passato Boh Ahà Ecco questa qua Questa mi serve Ora Con questa Cerchiamo di dare forma Cioè di dare Di creare la rampa No Non ci siamo Oh sì Ok Dovremmo Riuscire a salire Così Vediamo No Troppo lontano Non ci siamo o vediamo adesso ok perfetto andiamo sul nero no cavolo ma forse devo andare giù vediamo comunque devo ammettere che questi livelli più vai avanti più sono difficili complimenti veramente difficile ok dovevo scendere certo che chi soffre di psichedelico psichedelico vabbè quello ragazzi avete capito qua ci sta malissimo potrei andare dritto a quanto pare o no no devo per forza andare di qua ok ok siamo finiti all'interno della sveglia le 8 di mattino eh signori abbiamo finito anche questo livello bene direi che possiamo fermarci qui come vedete abbiamo sblocato anche il nuovo livello ovvero sguardo al passato e noi questo livello lo faremo la prossima volta mi raccomando spolliciate mettete like condividete e commentate che per voi ragazzi non è nulla ma a me fa davvero tanto spero che questi video vi piacciono e noi ci rivediamo in un prossimo video un saluto da Mizaragaret ciao Ciao a l'io!